Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono finiti al centro del gossip. Da qualche giorno a questa parte. I fan della coppia non fanno altro che parlare di matrimonio in vista per i preleni. Ad alimentare le voci, ci ha pensato lo stesso Pierpaolo piazzando un like sotto un post che parlava dei presunti fiori d'arancio. La coppia formata da Giulia e Pierpaolo è nata sotto i riflettori del grande fratello Vip 5. In principio, nessuno credeva in loro ma giorno dopo giorno si stanno ricredendo anche le male lingue. La relazione dei preleni prosegue a gonfie vele. Addirittura, nelle ultime settimane si è cominciato a parlare anche di nozze in vista. Tutto è partito da un post, su Instagram, pubblicato da una fanpage dedicata a Giulia Salemi. Nella didascalia, si legge, presto Pierpaolo e Giulia potrebbero salire all'altare. Una notizia che ha mandato su di giri i fan della coppia e ha fatto sognare il lieto evento. Ma non è tutto, ad alimentare le voci di un presunto matrimonio ci ha pensato proprio Pretelli. Quest'ultimo anziché smentire il pettegolezzo, ha deciso di mettere un like al postale. Giulia Salemi non ha commentato i rumors mentre Pierpaolo Pretelli avrebbe confermato a modo suo. Al momento, non è stata avanzata alcuna proposta. Tuttavia, non è escluso che l'ex velino non stia trovando il modo giusto. All'interno della casa più spiata d'Italia, Pierpaolo aveva messo gli occhi su Elisabetta Gregoraci, in un primo momento l'interesse sembrava ricambiato. Una volta compreso che tra i due non poteva esserci nulla, Pretelli ha fatto un passo indietro. Con l'ingresso di Salemi al Grande Fratello Vip, i due coinquilini hanno mostrato subito un certo feeling. Terminato il reality show di Canale 5, la coppia ha continuato a vivere la favola d'amore lontano dai riflettori. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip stanno vivendo un momento d'oro anche dal punto di vista professionale. Pierpaolo Pretelli da settembre sarà impegnato il Rai, nel programma condotto da Carlo Conti tale e quale show insieme a lui ci sarà anche Stefania Orlando e la mamma di Francesco Oppini. Giulia Salemi invece, sarà alla conduzione di due forma targati Mediaset. Il primo riguarda GFVP programma dedicato al reality show condotto insieme a Gaia Zorzi mentre il secondo si chiama Ritorno a scuola. La modella Italo-Persiana si troverà alla conduzione con Maria Teresa Ruta e Nicola Savino. Dopo l'esperienza nella casa, Giulia aveva già condotto un programma web nato da un suo progetto.